buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati in questo nuovo webinar io sono elisa contestato sono qui con max la mascotte di seo zoom e sono online con manuel fae buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati eccoci qua manuel io l'ultima volta che ti ho visto di persona eravamo davanti a un prosecco purtroppo oggi siamo davanti a un caffè ma insomma dai bene lo stesso se vuoi io peggio dell'acqua in un bicchiere trasparente ok ahimè oggi dobbiamo attrezzarsi in questo modo il prosecco era meglio ma speriamo di recuperare presto e nel frattempo ci dicono che audio e video si sente bene ci salutano tutti ci salutano da ravenna siamo blindati in studio guarda marco stavamo parlando poco fa con manuel che mentre io max qui con me max di emmanuel è in quarantena in ufficio quindi siamo tutti siamo tutti in questa in questa situazione ci salutano da milano e ci dicono si tiene botta sia assolutamente bisogna davvero cercare in questo momento di essere vicini moralmente mettiamola così è un periodo che ci mette a dura prova e anche da parte mia da parte del team di seo zoom veramente cerchiamo di farci un abbraccio collettivo anche se è virtuale davvero importante tenere duro farsi coraggio e soprattutto non mollare in questo periodo dove sicuramente tanti business vengono messi a dura prova ma è forse il momento in cui possiamo un po cogliere l'occasione o per studiare o per capire come andare a cambiare alcune dinamiche insomma si tiene duro però cerchiamo davvero di non scoraggiarci siamo sicuri che come leggo spesso online in questi giorni ritorneremo ad abbracciarsi più di prima quindi davvero siamo vicini tra tutti cerchiamo anche noi come team di essere online anche su facebook di fare un po di di supporto anche con qualche live aggiuntiva e quindi intanto grazie davvero di essere qui con noi cercheremo di farvi una buona compagnia e una buona formazione per riuscire anche nell'appuntamento di oggi a darvi il nostro supporto e poi adesso vi vado a presentare il nostro ospite anche se sono sicura che lo conoscete già tutti Manuel io l'ho conosciuto tanti anni fa lo seguo da tanti anni brevemente co fondatore di WMI si occupa di tutta la parte di connection manager ha scritto un libro con sportelli può essere io un libro che non ho letto può essere può essere dici una parola sul libro così magari diamo un consiglio di lettura ai nostri partecipanti e magari me lo noto anch'io sì il libro che si intitola il succo del web marketing in realtà è uno sfogo mio ideale che dopo i primi 15 anni di attività davvero noi lo chiamiamo uno sfogo tant'è che il lavoro più grosso l'ha fatto chi l'ha rivisto che ha tolto le parolacce e quindi da 600 è diventato di 380 pagine a parte ciò è il libro è stato scritto con l'intento di parlare il linguaggio più consono agli imprenditori e ancora qualche anno fa quando diciamo che forse più di oggi era difficile comprendere se e quando fosse utile utilizzare strumenti di marketing quindi quello è stato l'intento ma c'è ancora e siamo contenti di quel lavoro lì ecco grazie grazie così abbiamo anche uno spunto di lettura oggi vi diamo uno spunto di formazione video uno spunto anche di lettura è fantastico e oggi trattiamo una tematica importantissima è che effettivamente ci mancava in questo percorso di webinar perché parleremo appunto quella che è l'analisi della customer journey prima di iniziare tra pochissimi minuti passerò la parola a manuel io mi metto piccola piccola ad ascoltarlo assieme a voi vi voglio ricordare giusto un paio di cose vi ricordo che questo webinar sarà registrato e disponibile tra qualche settimana all'interno di academy.seozoon.it per vedere questa registrazione e le registrazioni degli altri webinar è sufficiente creare un account gratuito e accedere dal menu alla voce webinar se invece volete seguire qualche webinar su seo zoom perché magari utilizzate la suite andate sul menu alla voce webinar di seo zoom l'ultima cosa che vi voglio ricordare è che la settimana prossima faremo un webinar dedicato a seo zoom quindi la settimana prossima si torna a studiare la suite e tratteremo ve lo dico in super anteprima perché ancora non ci sono le comunicazioni pubblicate ma tratteremo lo studio degli strumenti dell'area competizione quindi vedremo un po come studiare i competitor come fare confronti tra due siti web e approfondiremo un po tutta questa parte quindi se non l'avete già fatto sognate in calendario un pallino su mercoledì prossimo alle ore 15 in modo che ci ritroviamo qui tra una settimana e speriamo che nel frattempo arrivi qualche buona notizia perché davvero cerchiamo anche di supportarci in questo modo direi che siamo pronti per partire nel frattempo arrivano un sacco di saluti addirittura anche da malta fantastico malta bolzano ciao da monaco di baviera fantastico monaco di bavie di baviera una delle mete che avrei voluto per me quest'anno quindi non so se riuscirò ad andarsi ma speriamo di sì però è fantastico che siamo collegati veramente da ogni parte mandaci una birra oh sì ci vorrebbe una birretta così così passiamo dal prosecco quando ci siamo visti di persona al caffè online alla birra di nuovo di persona manuel è fantastico e si stavano anche fabio da valencia fantastico genova e si dicono che ci mandano il pesto vabbè io sono diciamo io così sono già a posto non ma più bisogno della logistica ok ho perso un attimo manuel voi mi sentite mi date un feedback io sì ok mi senti bene ok ti ho perso un secondo ti ho perso un secondo l'audio ok va bene un saluto anche a chi è da brescia nel cuore un po dell'attività nelle aree un po più difficili ok va bene io direi che siamo pronti per cominciare manuel direi che se vuoi condividere lo schermo a schermo intero cominciamo a partire ti provo tutti e lo schermo si vede ok vedo perfettamente il tuo schermo vedo la web la tua webcam bloccata quindi direi che così per magari risparmiare un po di banda io ti tolgo la webcam così vedremo solo il tuo schermo e non vediamo la webcam ferma dammi un attimo che la sistema quindi ti sentiremo ma non ti vediamo così devo dire che è stato il modo più carino in cui mi sia stato detto che sono brutto brava ma capisco capisco io non l'avrei proprio mai accesa la webcam no mi spiace scusate ma fa parte della diretta davvero e io intanto mi tolgo anch'io e ti ti auguro una buona una buona lezione e mi ammetto assieme ai partecipanti ad ascoltarti grazie allora io intanto tu conferma mi che si sente confermo che ti sentiamo e che vediamo lo schermo perfetto allora buon pomeriggio a tutti ragazze e ragazzi l'idea un po quando elisa appunto mi ha qualche credo ormai un mese fa mi ha detto ma che ne dici di fare una chiacchierata su qualche argomento l'idea di parlare del customer journey o processo d'acquisto che mi piace di più utilizzare l'italiano mi è venuta perché avendo io qualche ruga adesso che ha tolto la webcam non si vede ma avendo qualche ruga e negli anni è stata una cosa a cui sono arrivato mettendo pezzo su pezzo facendo errori su sono arrivato dicevo a comprendere un po di più credo dove sbagliavo e come poi potevo o dovevo provare a recuperare sui sui progetti di web marketing che negli anni insomma ho seguito con qualche decina di clienti ora l'idea di questa mezz'ora è innanzitutto di condividere con voi questi cinque fattori che ho messo da analizzare per non buttare tempo e soldi appunto in web marketing e poi magari spero sulla scorta di queste mie riflessioni di poter dialogare con qualcuno di voi magari su casi specifici se avete domande o richieste particolari dunque se riesco a far andare avanti le slide io ho preparato velocemente sette punti che andremo a vedere appunto in questo tempo a partire dal processo d'acquisto vediamo velocemente qual è la definizione giusto per inquadrare l'argomento quali sono i principali modelli due parole sul connection funnel che è il metodo che io e il mio amico e socio alessandro sportelli abbiamo creato costruito negli anni ecco sulla scorta appunto delle nostre esperienze un focus particolare su quello che noi chiamiamo riferimento all'interno del processo d'acquisto poi proviamo a proveremo a capire se tutti i processi d'acquisto sono uguali o se e quali siano le differenze entreremo nel merito dei cinque fattori che determinano la complessità del processo d'acquisto magari proveremo a capire perché è utile saperli analizzare vedremo anche operativamente qualche spunto per analizzare il processo d'acquisto e poi alla fine per chiudere un diciamo la correlazione vorrei andare a vedere ad accennare quantomeno tra processo d'acquisto strategia di marketing vedendo lì che i piai principali e quali sono le priorità operative di quando si va a fare un progetto di web marketing allora partendo dalla più classica delle definizioni il processo d'acquisto è l'insieme di azioni che compie il consumatore o cliente sia online che offline da quando scopre o cerca un prodotto o servizio a quando lo acquista nella definizione ho evidenziato qualche parola tra cui azioni quindi quello che l'utente fa o subisce online e offline scopre o cerca prima di arrivare all'acquisto così per divertirmi magari potete farlo anche voi lo avrete già fatto ho provato a googlare customer journey o processo d'acquisto tanto google è bravissimo è carino vedere la quantità carino ovviamente un eufemismo di modelli disegni disegnini che escono se andiamo sulla tab delle immagini di google perché vi dico questa cosa per una riflessione personale di fatto no venne tirata fuori una questa almeno personalmente una delle immagini più classiche quando si parla del processo d'acquisto dove in orizzontale abbiamo il processo d'acquisto spezzato nei classici sottotemi e poi quel bel serpentone colorato attorno dove per ogni punto ci sono più o meno gli strumenti che è o dovrebbe essere utile utilizzare a seconda della fase del processo d'acquisto in cui ci troviamo tutto bello tutto bello ma diciamo che almeno personalmente per quanto io vi garantisco negli anni abbia anche studiato o almeno ho provato mi sono impegnato e le ho anche imparate queste cose penso che di saperle di saperle di conoscerle quando poi concretamente mi trovavo mi trovo ancora a lavorare su un qualsiasi progetto di web marketing con un'impresa con un imprenditore che giustamente ti dice c'ho questa cosa vorrei vendere devo fare non devo fare l'e commerce ho sempre trovato uno scollamento tra questa che è della gran bella teoria ok e il mondo reale quando vai a mettere le mani in pasta cioè mi sono sempre reso conto ripeto forse un limite mio personale che quando andavo a e vado ad operare nel concreto a capire da dove cominciare cosa fare cosa non fare quali strumenti utilizzare che budget impegnare e queste bellissime immagini colorate con i puntini che girano intorno sono un po li io mi verrebbe da commentarle ma non mi sono utili e in questo devo dire che ho trovato conforto riscontro forse perché ha lo stesso difetto del sottoscritto in alessandro sportelli e negli anni quello a cui noi siamo arrivati a questo aggeggio che abbiamo chiamato connection funnel ora io non vi tedierò sul connection funnel in quanto tale anche se entreremo nel nel merito di un pezzettino perché vorrei spiegarvi un po la logica di questa cosa ci tengo solo a dirvi a riguardo che ripeto è la sintesi di una quindicina d'anni di lavoro per dirvi i primi anni esisteva solo la parte destra la strategia di web marketing anche lì continua continuavamo a darci delle testate perché ci mancava un pezzo poi qualche anno fa siamo andati a prendere la parte del customer journey l'abbiamo un po sistemata a piacere nostro è di questo che veramente oggi vorrei parlare e poi abbiamo unito le due cose per questo si chiama connection funnel ecco perché connette un po quello che è il processo d'acquisto con la strategia di web marketing dicevo io vorrei spendere qualche minuto oggi per parlare del processo d'acquisto secondo il nostro metodo secondo la nostra ipotesi allora noi la dividiamo il processo d'acquisto lo dividiamo in queste sei fasi a partire dall'alto dalla fase della scoperta cioè quando l'utente appunto ci scopre giusto per provare a essere chiari e pratici qua l'utente è in una situazione passiva siamo noi che arriviamo da lui classicissimi esempi che tutti conosciamo la pubblicità su facebook nella misura in cui sono io che vado a targhettizzare un determinato pubblico con determinate caratteristiche io apparirò a quel determinato pubblico quando lo decido io e quindi quel in quel momento l'utente probabilmente è passivo viceversa la fase del problema è quando è l'utente che ha un problema o un bisogno è lui che si attiva per cercare informazioni o per risolvere un problema per effettuare un acquisto questo sappiamo può venire online banalmente con i motori di ricerca con i vari motori verticali comparatori a seconda del tipo di domanda che ha in quel momento il desiderio il problema che all'utente il la fase successiva dopo aver parlato di intercettazione della domanda è la fase del riferimento l'assalto perché ne parliamo poi con un paio di esempi perché ci tengo a snocciolare bene questo concetto quindi diciamo che dopo la fase di intercettazione c'è la fase di acquisizione informazioni questo se dovessi definirla questa fase è una sorta di buco nero e probabilmente è il cuore dell'intervento di oggi perché dire che l'utente a un certo punto dopo che ci ha cercato dopo che ci ha scoperto per decidere se acquistare o no da noi deve acquisire delle informazioni grazie al ci mi verrebbe da dire lo sappiamo tutti ma poi come si concretizza questa cosa che come che informazioni possiamo dobbiamo trarne noi che poi dovremmo occuparci di promuovere o di fare delle azioni di web marketing quindi dopo ragioneremo un po su questo aspetto dell'acquisizione delle informazioni e capiremo il discorso dei fattori per misurare la complessità del processo d'acquisto successivamente poi abbiamo la fase dell'acquisto appunto finalmente si arriva un dunque e poi c'è la fase del post acquisto quindi tutto tutte quelle che sono le attività che si che vanno o andrebbero fatte nel post vendita vi ho rimesso a fianco la come dire definizione del processo d'acquisto semplicemente per dare un po l'idea iniziare a provare a schematizzare a mettere insieme le cose vi dicevo c'era quel punto del riferimento per provare a spiegare che cosa intendo ho messo giù qualche esempio anche molto personale cosa significa che io ho un riferimento quando parliamo nell'analisi del processo d'acquisto brutto esempio ma può capitare mi sveglio mal di denti sono a casa mia cosa faccio io ho un dentista di riferimento a proposito alzo il telefono lo chiamo e vi dico e Gianluca mi fa male ho male i denti posso venire l'unica roba che io mi aspetto l'unica informazione di cui ho bisogno quel momento lì e che lui mi dia la disponibilità possibilmente immediatamente e il processo d'acquisto è finito oppure ho un'amica che mi consiglia un libro a quel punto lì siccome mi fido della mia amica io ho finito di acquisire informazione vado su amazon che per me è riferimento quando devo acquistare un libro lo cerco lo metto a carrello e acquisto altro esempio è abbastanza recente ahimè dovevo assicurare lo scooter di mio figlio chiamo il mio assicuratore io ho un carissimo amico che è assicuratore quindi per me il processo d'acquisto quando si parla di ambiti assicurativi lo chiamo gli dico mi serve questo per quanto mi riguarda so che è la miglior soluzione vero o no che sia fine del processo d'acquisto se notate in tutti e tre questi esempi banali probabilmente potremmo farne molti altri non c'è la fase di acquisizione informazioni o comunque molto 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 ridotta quindi si intuisce credo chiaramente che il processo d'acquisto è molto breve molto snello se vogliamo provare a trarre una prima piccola conclusione rispetto al processo d'acquisto tutti tutte le aziende che vendono un prodotto un servizio dovrebbero avere l'ambizione di diventare riferimento per i propri clienti anzi riferimento del settore quello è il top ma magari dopo ne parliamo un attimo a questo punto la domanda è il processo d'acquisto quindi è sempre uguale cambia da situazione a situazione mi faccio e vi faccio questa domanda sulla scorta della famosa slide che c'era prima con il processo d'acquisto in orizzontale il serpentone intorno fatto di punti e strumenti da utilizzare anche qua vi ho messo giù qualche esempio per provare a rispondere e a dimostrare forse banalmente ma vorrei concretamente che il processo d'acquisto cambia in funzione di determinate cose casi che mi sono successi recentemente a livello personale anche qui mi serviva una webcam per le dirette online qualche mese fa diciamo che la webcam integrata del mio mac ha deciso che funzionava quando voleva lei invece oggi vedete che ho quella nuova non funziona uguale ma tant'è scusate mi serviva quindi mi serviva una webcam esterna cosa ho fatto io qual è stato il mio processo d'acquisto in questo caso io ho cercato su youtube mi sono guardato un po' di tutorial di gente che fa boxing che prova prodotti anche perché io sono una capra a riguardo quindi avevo proprio bisogno di capire di vedere andrà bene la porta usb si collega usb 2 usb 3 non ne so una cippa quindi sono andato a cercarmi tutta una serie di informazioni credo di aver a spizzichi e bocconi aver fatto ricerche più o meno per una settimana in pausa pranzo la sera prima di dormire mentre in autobus cercavo quindi mi sono fatto un po' una cultura per quanto potevo a quel punto lì ho anche individuato probabilmente a forza di guardare video due o tre modelli forse erano due alla fine e a quel punto ho iniziato a fare ricerche lato google su quei modelli andandomi a leggere anche lì recensioni prove tecniche caratteristiche a quel punto io sono anche un po' orgoglioso mi sembrava di aver iniziato a capire tutto quindi mi leggevo le caratteristiche tecniche e quanti frame per secondo e la porta velocità dove fosse il collo di bottiglia quindi un po' mi sono anche divertito fatto sta che ragazzi ve la faccio breve è rimasta lì io non ho mai acquistato niente in quel periodo lì se non che non so dopo quanto tempo io ho scritto un mesetto credo più o meno mi sono accorto per sbaglio che nella tabella promozione c'era una mail di amazon forse prima di vuotarla come faccio sempre ho visto e ho visto che c'era un'offerta sulla webcam su una delle webcam che io avevo cercato all'interno di amazon ovviamente quando avevo andato a vedere il prezzo e a quel punto lì effettivamente l'ho messa a carrello l'ho ordinata così tipo raptus ma qua in questo caso se proviamo a analizzare il mio processo d'acquisto per quanto io possa essere considerato uno schizofrenico in realtà il problema che ho avuto quindi io avevo un problema la mia webcam non funzionava bene avevo deciso di comprarne una o di valutare l'acquisto non avevo nessuna fretta particolare ma sapevo che dovevo farlo mi sono messo a cercare su youtube quindi io il mio processo d'acquisto l'ho iniziato nella mia acquisizione di informazioni l'ho iniziata all'interno di youtube sono passato non so dirvi da quanti siti da quante ricerche online comunque qualche decina probabilmente l'ho fatta ho letto più o meno cose sono andato a farmi una ricerca all'interno di amazon per andare a capire prezzi di disponibilità ho lasciato lì la cosa amazon mi ha inseguito come ben sa fare lui e come ben sappiamo e a quel punto l'ha ristimolato da amazon ho effettuato l'acquisto quindi questo è la durata vi dicevo più o meno probabilmente un mese un mese e mezzo altro caso di inizio anno ho scoperto da un post su facebook credo di una qualche azienda di consulenza una sponsorizzata sicuramente che c'erano dei contributi per la tutela dei marchi registrati all'estero dei contributi a fondo perduto a favore delle aziende al che dico ah c'è questa cosa interessante mi sono messo ho cliccato su quel link sono andato a leggere di che cosa si trattasse mi sono messo anche lì a fare ricerche poi conseguenti su google sono andato a leggermi news mezza normativa mi sono stancato dopo 32 secondi perché leggere i bandi non so voi ma a me non è che proprio piaccia mi sono da cercarmi ancora informazioni in merito anche qui ho iniziato il mio giro informativo sfruttando google in questo caso e iniziando ad entrare e uscire da vari siti dove c'erano informazioni più o meno approfondite più meno attendibili a riguardo so ricordo bene che ho scaricato una guida di un'associazione ho fatto una chiacchierata con il mio commercialista ok poi ho contattato due riferimenti in due associazioni perché il mio commercialista sostanzialmente mi aveva detto guarda è una cosa che non eroghiamo noi direttamente come servizio c'è chiaramente un aspetto burocratico qua alla fine sono andato a un appuntamento dall'associazione e dopo mi sono di nuovo confrontato con il mio commercialista per capire ci sono queste scartoffe abbiamo questi aggeggi va bene secondo te quello che fanno alla fine ho scelto l'associazione per farmi fare le pratiche burocratiche anche qui se proviamo ad analizzare il mio processo d'acquisto in questo caso il prodotto il servizio di cui stiamo parlando è di fatto mi serviva un il consulente o chi per esso che sapesse gestire la pratica per provare ad accedere a questi contributi io avevo le competenze per individuo a scegliere quale fosse il consulente o la soluzione migliore per intanto vi rispondo nì perché poi in realtà io una scelta l'ho fatto ma magari ci torniamo sopra dopo e capiamo che cosa ha determinato la mia scelta nei confronti di un'associazione piuttosto che di altre soluzioni o altri consulenti altro esempio vero è di due anni fa ma è verissimo mia sorella compie gli anni tra due giorni io sono famosissimo per ricordarmi i compleanni anche della famiglia mai lo scopro ovviamente perché mia mamma si ricorda di dirmi tua sorella compie gli anni ok a quel punto dico bene 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 lo dico qua in diretta ho detto caspita cosa faccio abitiamo a 100 chilometri di distanza quindi dico ok le facciamo andare a casa un regalo so che adora il cioccolato mi metto a cercare il del cioccolato cioccolato di qualità proprio lo google finisco su una rivista di settore non chiedetemi cosa dove si parla di rivista di cucina chiaramente sostanzialmente mi ricordo che in quell'articolo citavano tre o quattro marchi io sono andato a vedermi i loro siti ok uno garantisce la spedizione in 24 ore le recensioni dicevano che il cioccolato era buono ve ne sono lette un po di fatto entro faccio l'ordine e spedisco mi ricordo anche che si poteva scrivere il bigliettino di auguri dico che figata diciamo che l'operazione qua in questo caso probabilmente è durata dieci minuti vuoi perché 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 non avevo tempo quindi sicuramente c'era un concetto un concetto di urgenza e vuoi perché probabilmente insomma del cioccolato lo stavo regalando non è che le stessi non so comperando la casa nuova e quindi in questo caso il processo d'acquisto è stato tutto sommato veloce una google lata tre quattro articoli cioè scusate un articolo tre quattro visite diciamo in tre negozi visto quello che garantiva i servizi in 24 ore e che i prodotti a detta degli altri erano buoni ho ordinato e le cose sono andate bene mia sorella mi ha ringraziato per il regalo quindi fantastico altro esempio questo è più recente camminando per strada ho visto una camicia in vetrina sono entrato in questo negozio ho chiesto di provarla ne ho provate più di una alla fine sono andato in cassa con due camicie ho pagato sono uscito qua il processo d'acquisto probabilmente è durato boh dieci minuti forse otto vuoi che sono un uomo e quindi credo che nella media solitamente sia ci mettiamo un po meno dentro un negozio rispetto a una donna perché noi non siamo attenti ai particolari come loro l'ho scoperto perché non era una cosa che avevo intenzione di fare ma l'ho visto e in quel momento mi è preso così ho deciso che mi servisse la camicia poi in realtà ne ho preso due è successo tutto offline diciamo che dai tre quattro esempi cinque non so quanti vengono messi giù si intuisce che il processo d'acquisto come era ovvio probabilmente di un prodotto può essere più o meno lungo più o meno complesso può richiedere più o meno informazioni a seconda dei casi e quindi qua io vi ho rimesso la domanda da cui siamo partiti cioè quali sono i fattori che ne determinano la lunghezza la complessità e la quantità di informazioni aggiungerei anche il tipo di informazioni cioè se ci mettiamo dalla parte dell'imprenditore o di colui che deve vendere o erogare i servizi quali sono le informazioni che io devo dare all'utente in quale momento che le devo dare in quale formato dove mi devo far trovare dove quando devo andare io eventualmente a cercare il mio utente ci sono dei fattori quindi che mi possano far misurare almeno all'inizio capire quando mi trovo davanti un caso che ne so degli esempi che vi facevo prima sono il negoziante che vende camice ok qual è il processo d'acquisto o quali sono i processi d'acquisto tipici dei miei clienti questa è la domanda a cui il negoziante dovrebbe saper rispondere o noi se siamo il suo consulente dovremmo aiutarlo a rispondere a questa domanda per capire poi che cosa fare proviamo a entrare nel concreto allora io e alessandro sempre nelle nostre paranoie soprattutto notturne per ormai è fatto di alcol e teorie anche complottiste sul marketing ci siamo inventati o comunque ci siamo inventati degli indici con l'idea l'obiettivo era riusciamo a trovare un modo che sia uno schema applicabile sempre in maniera tale almeno in fase iniziale di riuscire ad avere velocemente il polso della situazione e capire a seconda del prodotto o servizio che si deve vendere se siamo di fronte a un processo d'acquisto facile o difficile questa era la domanda pretenziosa a cui volevamo darci risposta e dopo esserci interrogati per qualche anno direi e aver scritto e cancellato tante cose tra noi cancellato no le teniamo andiamo a rivederci ogni tanto di fatto noi abbiamo individuato 5 termometri appunto li abbiamo chiamati che a seconda della temperatura che ognuno di questi ha ok ci aiuta a comprendere almeno in fase iniziale se ci troviamo di fronte a un processo d'acquisto difficile o facile i primi due da cui siamo partiti e che ci siamo inventati sono il termometro della fiducia e il termometro del rischio ora io provo a darvi le definizioni e poi dopo anche qua c'è qualche esempio e magari se anche a voi viene qualche domanda o qualche esempio concreto vostro alla fine con piacere ci facciamo una ragionata termometro della fiducia cosa significa si acquista sulla fiducia questa è una cosa che forse un po difficile spero di riuscire a spiegarla perché spesso è ambigua quando noi siamo in grado di acquistare come dire razionalmente in maniera autonoma quando invece dobbiamo farlo sulla fiducia allora credo che molti di noi qua si di mestiere si occupino di web marketing di advertising sviluppino siti quindi di attività del del settore non so se vi è mai capitato ma credo di sì quando noi andiamo a vendere un nostro servizio da un qualsiasi cliente che ci piaccia o no non ci sceglie mai sulla scorta delle nostre competenze ma cisco si sceglie sulla scorta del del percepito che ha di noi perché perché lui non ha il background le basi come è logico che sia per capire per giudicare se noi abbiamo le competenze o no per risolvere i suoi problemi vi ribalto l'esempio se io domani mattina devo operarmi un ginocchio perché ho un problema ok e quindi devo scegliere da quale chirurgo farmi operare io non sono un medico quindi io non ho le competenze per andare a leggere le specifiche tecniche virgolette di tutti i medici chirurghi e in base alle specifiche tecniche di ognuno decidere quale sia il migliore quale sia il peggiore in qualche modo mi devo fidare cosa significa che mi devo fidare che io guardo altri elementi ok che caratterizzano quella in questo caso quel profilo professionista e sulla scorta di quelli decido se fidarmi o meno gli esempi sono a se qualcuno me l'ha raccomandato se mio fratello mi ha detto guarda che mi ha operato tre anni fa e il mio ginocchio perfetto in virtù del fatto che mio fratello persona di cui mi fido molto è chiaro che io 9 su 10 ho finito di fare domande oppure estremizzato dall'altra parte se questo è un chirurgo che online ha un bellissimo sito tra cui all'interno del quale trovo le testimonianze di persone che sono state operate magari al ginocchio e lo ringraziano e dicono che adesso stanno benissimo sicuramente è un elemento che potrebbe condizionare la mia scelta altro se ha un curriculum infinito perché opera in cliniche molto blasonate oppure pubblica su riviste oppure è famoso perché va in tv perché poi gli elementi bisogna metterli tutti sono tutti elementi ok che aumentano la fiducia che io posso avere nei confronti di quella prodotto di quella persona in questo caso che è il servizio e quindi posso farmi condizionare da questi nella scelta ripeto viceversa nello scegliere un professionista questo si può abbastanza generalizzare sceglierlo in base alle competenze almeno che non sia un mio concorrente cioè io nella misura in cui reputo di conoscere il marketing e web marketing e gli strumenti web marketing posso scegliere un altro consulente web marketing andando a vedere cosa sa fare cosa non sa fare ma se io devo scegliere un commercialista o mi lauro in economia e commercio come minimo studio e quindi riesco a capire se sa fare il mio mestiere se no faccio un atto di fiducia scoprirò dopo se effettivamente sa fare il suo mestiere o no quando tutto andrà bene o succederà scoprirò cose che sono state fatte o non sono state fatte ci torniamo sopra a caso mai dopo quindi primo termometro la fiducia e vi dico già che se per scegliere un prodotto o servizio serve tanta fiducia quindi ci posizioniamo verso la parte sinistra di questa slide verso il più è un elemento che va a rendere la vendita più difficile perché più fiducia serve ok più poi lo vediamo è difficoltoso più saranno necessarie informazioni poi entriamo un po nel merito l'altro termometro principale che noi abbiamo ok è il termometro che abbiamo chiamato del rischio quindi qua davvero la domanda da farsi è ma il mio quanto rischio occorre il mio potenziale cliente nel per acquistare nel momento in cui acquista il mio prodotto o servizio che cos'è il rischio in questo caso sicuramente ci può essere dentro la componente economica quindi si deve fare una spesa molto importante dove molto importante è relativo alla tasca di ognuno oltre che al bene che si va a comprare più l'acquisto è importante ok più il rischio è alto quindi anche questo significa che tende a portare la vendita verso una situazione di difficoltà ma anche le vendite che implicano un cambio di stato importante sono rischiose altro esempio io potrei essere iper miliardario e non avere grossi problemi ad acquistarmi una casa ok ciò non toglie che se io acquisto una casa il fatto che devo mettere in moto poi magari un trasloco spostarmi eccetera non è che dopo una volta che l'ho acquistata dopo 20 giorni dico così come nulla fosse vabbè sai cos'è non è che proprio mi piaccia tantissimo vorrei tornare alla situazione di prima quindi se il cambio di stato è tale da permettere difficilmente la possibilità di tornare allo stato di partenza ok o implica uno sforzo molto elevato questo aumenta il rischio al contrario anche qua se vogliamo fare un esempio dove invece il rischio è molto basso se devo andarmi a comprare un paio di calzini nuovi ok avranno un costo se li compro online devo accertarmi che mi arrivino ma se stiamo parlando di una spesa piccola so anche che se mi arrivano a meno che non sia l'appuntamento della mia vita e senza quei calzini l'appuntamento va male tutto sommato il rischio è relativo quindi probabilmente si abbassa quella soglia di paura è un rischio che si può correre più facilmente quindi probabilmente la temperatura di questo termometro va verso destra e tende a semplificare la vendita ora questi sono i due diciamo termometri fondamentali poi tra i vari ragionamenti io e ale siamo arrivati ad aggiungerne altri due perché qualcosa non ci tornava e sono i due termometri che noi abbiamo chiamato facilitatori facilitatori perché controbilanciano quelli della fiducia del rischio i due termometri facilitatori sono uno dell'urgenza e l'altro del coinvolgimento emotivo perché perché a parità di diciamo temperatura dei due termometri principali fiducia e rischio nella misura in cui nel processo d'acquisto intervergono urgenza o coinvolgimento emotivo questi controbilanciano e quindi tendono a semplificare il processo di vendita anche qua torniamo all'esempio che vi facevo prima dovevo regalare il mia sorella compito il compleanno di mia sorella decido di regalarlo del cioccolato ok acquistare il cioccolato per acquistare del cioccolato servi fiducia tendenzialmente no la faccio facile cioè sono in grado di vedere leggere e capire da solo se quel cioccolato sarà buono o meno c'è del rischio diciamo che la cifra investita non era così alta e comunque l'ipotesi peggiore era che arrivasse in una scatola di cioccolatini un po rovinata quindi tutto sommato il rischio era basso e quindi entrambi questi termometri sono a destra avevo urgenza caspita si avevo assolutamente urgenza quindi addirittura qua abbiamo un acceleratore che comprime ancora di più accorcia ancora di più il processo di vendita c'era un aspetto di coinvolgimento emotivo a riguardo qua relativamente si essendo il compleanno di mia sorella poi ci ragioniamo ancora era solo per provare a fare un esempio un po più completo diciamo che poi da ultimo abbiamo aggiunto un quinto termometro perché in alcune situazioni non ci tornava ancora tutto ci serviva un ulteriore indicatore è un po diciamo il termometro che riguarda il venditore riguarda la credibilità la notorietà l'autorevolezza del venditore anche qua l'esempio più facile e immediato che mi viene da fare è comprare delle pile stilo aaa perché che ne so l'orologio che ho dietro le mie spalle è scarico ok mi servono tre pile le compro online per comodità fa differenza comprare lo sappiamo oppure se ci pensiamo capiamo che è così cercare e trovare un rivenditore qualsiasi online uno store online che le venda magari che sia sconosciuto io non lo conosco che non abbia elementi di credibilità all'interno eccetera e entrare su amazon e dire aspetta che ordino le pile perché perché purtroppo o per fortuna una delle caratteristiche di amazon è sicuramente la notorietà la credibilità l'autorevolezza che si è costruita in 25 anni in generale quindi possiamo affermare che a parità anche in questo caso di temperatura degli altri quattro termometri quelli neri se il termometro del venditore va verso la parte destra quindi verso il più accelera accorcia semplifica il processo di vendita io elisa non sento nessuno quindi continuo io ti sento ti sentiamo benissimo e stiamo tutti seguendo quello che ci racconti ok non sento nessuno che russa credo abbiano spento tutto il micro no 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 sono qui sono qui tutti perché stanno partecipando mi stanno facendo già qualche domanda ma te la tengo dopo per la fine visto che finora tutti stanno seguendo bene le domande le facciamo alla fine grazie del feedback grazie mille quindi andando avanti anche qua vi ho messo giù ho provato a rimettere giù concettualmente gli esempi che vi facevo prima la richiesta di consulenza per il contributo per la registrazione dei marchi allora nel mio caso quando ho iniziato con la ricerca la e il venditore in questo caso quindi a società di consulenza era nota credibile autorevole no per me no e quindi c'era un elemento la temperatura era tutta la sinistra e quindi per me era un elemento di difficoltà è una cosa che si acquista sulla fiducia si fa parte delle consulenze per quanto mi riguarda quindi io non sono in grado di andare a vedere se loro effettivamente sanno quali sono le pratiche non ho gli elementi personalmente per dire ho capito che sono bravi devo guardare ho dovuto guardare altri elementi ho dovuto parlarne con il mio commercialista ho fatto una telefonata con loro mi sono scaricato una guida dove all'interno vi dico la verità in quel caso lì quello che a me è servito di più è stato scoprire che avessero già fatto questa operazione decine e decine di volte e che quindi stesse operazioni di registrazione marchi e che di mestiere fossero un'azienda che anche un'associazione che anche si occupa di come dire di sburocratizzare e aiutare le aziende per le procedure per chiedere i bandi quindi il vedere la testimonianza il loro storico mi ha sicuramente trasmesso fiducia quindi era necessaria fiducia si c'era rischio si non l'ho messo altissimo ma c'era perché comunque c'era un costo della pratica all'inizio che poi ti torna in tasca se va tutto bene quindi un elemento di rischio c'era c'era urgenza non tantissima ce n'era perché c'era una scadenza per quanto lunga quindi ma non tantissima potevo pensarci c'è un aspetto di coinvolgimento emotivo ma meno che non esista qualcuno appassionato di burocrazia scartocchi e cose simili direi che proprio coinvolgimento emotivo non ce n'è quindi in generale se qua io dovessi dare un giudizio torniamo al punto di partenza perché ci siamo inventati sta roba perché nella nostra testa l'idea era di dire c'è un modo in dieci minuti a meno per cominciare per fare una anamnesi di tutte le situazioni che si incrociano e capire se ci troviamo davanti un processo d'acquisto facile o difficile in questo caso qua a me mediamente verrebbe da dire qua siamo sul difficilotto andante viceversa all'estremo opposto era l'esempio che vi ho fatto quando abbiamo già parlato del regalo a mia sorella dovevo comprare del cioccolato tra l'altro su un venditore che per me è diventato autorevole nella misura in cui l'avevo visto sulla rivista che era una rivista autorevole non c'era un problema di fiducia l'abbiamo già detto il rischio era bassissimo avevo un sacco di urgenza il coinvolgimento del motivo c'era qua in questo caso il processo di vendita il processo d'acquisto è stato molto veloce provando a tirare quindi una prima somma per quanto mi riguarda quindi il processo d'acquisto è quello schemino in verticale che è un funnel sì è brutto lo cambieremo perché il funnel è stato devastato come concetto ma in realtà noi abbiamo provato a prendere la teoria del processo d'acquisto spezzato nelle varie nei vari pezzettini ok e correlarlo a questi benedetti fattori che abbiamo chiamati termometri per riuscire a capire appunto se c'era un modo per determinare il livello di complessità del processo d'acquisto ora solitamente una domanda quando c'è uno bravo che spiega so che una domanda a questo punto non so se capita anche a voi e ci dice ma come si analizza il processo d'acquisto io vi direi che la risposta è tutto sommato banale e ve l'ho messa per quello che è la priorità che solitamente io utilizzo uno è l'intervista all'azienda forse è banale ma dico all'azienda perché poi dipende se la realtà è una realtà piccola basta parlare con l'imprenditore o responsabile di turno e si riescono non dico ad avere le informazioni si riesce ad avere delle risposte ci vuole pazienza dipende dai casi nelle realtà più strutturate le interviste diventano più impegnative se si entrano in realtà in realtà dove ci sono divisioni di marketing divisioni commerciali reparti vendite reparti amministrativi logistica di solito le interviste io le allargo perché perché ho bisogno di capire un po tutto c'è un set di domande che tendenzialmente si fa chiaramente dipende dal settore no ovviamente e quindi le persone da coinvolgere dipendono dal tipo di azienda dalla dimensione solitamente dell'azienda la roba più importante per me è l'intervista ai clienti che è una cosa che non sempre si riesce a fare lo so ma su cui io rompo tantissimo le scatole perché è sempre quello che fa la differenza perché solitamente capita che o le informazioni dell'azienda siano incomplete ma perché ci sta ok o siano peggio ancora sbagliate vi sarà capitato anche a voi è che vi dicono come arrivano i clienti da te a col passaparola oppure no ho fatto la campagna su facebook e sono arrivati poi magari tu parli con i clienti e scopri che non è così quindi servono anche le interviste ai clienti poi qua potremo entrare nel merito e capire ma quando la faccio l'intervista il cliente oppure l'obiezione che tutti ci fanno quando lavoriamo è no no ai miei clienti non faccio le domande tanto non rispondono bugia guardate potrei portarvi degli esempi poi ci siano casi dove rispondono di più rispondono meno certo ma l'obiezione classica dell'imprenditore no 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 i miei feedback non li lasciano recensione non le danno non rispondono alle domande bugia è fondamentale sono le due cose più importanti quando si va a fare l'analisi del processo d'acquisto l'intervista l'azienda e l'intervista il cliente poi certo se hanno dei dati storici legati a dello storico vendite ben vengano poi da capire che dati come ce li hanno chi li ha compilati perché alle volte anche lì se le informazioni sono che ne so che ti dicono quanto hanno venduto e fanno un rapporto con il peso volume perché lo compila il magazziniere diventa un'informazione che per noi è poco utile dal punto di vista marketing in altri casi invece c'è chi ha un bel crm capita raramente dove riesce a vedere dati in maniera più approfondite ovviamente i dati di analytics quando parliamo di online quando ci sono quando la situazione lo permette evviva poi certo le altre cose che facciamo più o meno tutti andiamo a vedere se ci sono volumi di ricerca online facciamo l'analisi della concorrenza online offline io per l'analisi della concorrenza parto sempre anche qua dall'intervista all'azienda e chiedo a loro chi è chi sono i vostri concorrenti poi è bellissimo vedere quanto ci sia la discrepanza tra quelli che loro reputano concorrenti quelli che effettivamente sono concorrenti oppure anche quegli altri che sono concorrenti e secondo loro no senza tanto il merito di concorrenza diretta indiretta insomma non è questa l'occasione dati di mercato e statistiche ripeto sto andando in ordine di priorità è per capirci se l'intervista dell'azienda è dettagliata se hanno già dati dei clienti oppure i clienti rispondono bene sia uno storico vendite fatto bene se parliamo di commerce o anche i dati di analytics non mi nascondo che io solitamente i dati di mercato e statistiche me ne frega gran poco più mi mancano dati sulla parte sopra e più disperatamente in qualche modo cerca di cerco di barca men and barca men armi scusate andando a cercare date di mercato conoscenze andamento del settore eccetera diciamo che più ci allontaniamo più andiamo verso la disperazione quindi per andare verso la chiusura non so come sono quei tempi e sono perfetto sei perfetto benissimo ancora cinque dieci minuti se può andare sì 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 perfetto allora abbiamo visto un po la parte di sinistra del connection funnel quindi del processo d'acquisto e abbiamo provato a individuare quali sono i famosi cinque fattori per determinarne la complessità e come diciamo sempre noi prima va fatta l'analisi del processo d'acquisto lo dico a me stesso ragazzi a me non era chiaro all'inizio sta cosa io avendo iniziato nel 2000 arriva l'online su un partito da html che figata si può fare un sito se lo metti dentro una directory qualcuno ti trova poi sono arrivati i motori di ricerca quindi io sono un po antico capite nel tempo aggiunto pezzi 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 ho costruito tutta quella parte di destra e poi negli ultimi anni sono arrivato a capire che per semplificarci la vita sudare meno sbagliare meno e avere magari qualche soddisfazione in più prima si analizza il processo d'acquisto poi e lavora l'elaborazione della strategia di marketing è vorrei dirvi banalmente una conseguenza di quello che è stato fatto prima quindi analisi del processo d'acquisto elaborazione della strategia di marketing quindi come vado a intercettare la domanda latente e se serve andare a intercettare la domanda latente e per quanto riguarda la domanda consapevole qua dovremmo anche qua entrare nel merito e spezzettarla tra informativa commerciale ricerche brand eccetera anzi a seconda del settore dovremmo andare a capire anche ma gli utenti dove cercano i miei prodotti e servizi su google ci sono motori verticali come cambia il processo d'acquisto anche qua il dove vanno le persone cose che chi è un po più vecchiotto un po più esperto vecchiotto del settore intendo ogni età sa bene lo stesso per quanto riguarda la domanda consapevole specifica che è collegata chiaramente al riferimento quindi farsi trovare quando le persone vogliono proprio noi ok è la base i punti di contatto per per gestire la connessione cioè nel momento in cui sappiamo che gli utenti stanno acquisendo informazioni su di noi più riusciamo a stare in contatto con lui con loro con gli utenti che che si stanno informando su di noi di solito è meno risparmiamo e più come dire siamo utili o li amo il processo di di conversione e chiaramente tutto il mondo della conversione legato se parliamo di e commerce alla parte di carrelli eccetera eccetera l'ending page form se parliamo di di lito proxpress da portare a casa e poi c'è tutta la parte post vendita su cui magari aggiungiamo due paroline tra poco quello che volevo mostrarvi io qua per essere sintetico è noi il fan nel questo processo l'abbiamo diviso in tre macro aree se notate sul sulla colonnina di destra a partire dall'altro c'è la fase di investimento che è la fase appunto in cui andiamo intercettare gli utenti o ci facciamo trovare dagli utenti abbiamo una fase centrale che abbiamo chiamato di monetizzazione che è la fase in cui cerchiamo di portare l'utente che è entrato in contatto con noi alla conversione poi abbiamo la fase di capitalizzazione che sono tutte le attività che si fanno nel post vendita quali in maniera veloce le attività per il riacquisto le attività per portare a casa le recensioni per favorire passaparola e le eventuali attività di per avere delle referenze e portare e favorire anche lì passaparola tra clienti da clienti a potenziali clienti nuovi mi son permesso in maniera sintetica credetemi è proprio per dire mi son detto da solo ma se io dovessi scegliere un kpi per ognuna di queste tre fasi quale sceglierei perché lo sappiamo tutti che ce ne sono molto di più secondo me per la mia esperienza quando siamo nella fase di intercettazione di domanda latente consapevole quindi la parte in alto di intercettazione degli utenti il dato che bisogna tenere presente è il cpm quindi il costo dell'impression ok o il cpc se parliamo di attività su rete di ricerca qual è la caratteristica di questi bruttissimi kpi 1 storicamente non mai abbiamo visto anche qua perché ha qualche anno di esperienza che tendono a crescere nel tempo fluttuano ma con un andamento di crescita per farla breve il cpc dieci anni fa costava molto meno rispetto a oggi anche se attualizziamo il valore i valori in euro e non abbiamo il controllo su questa cosa cioè quello che noi possiamo fare rispetto a questo che ti hai qua è sicuramente ottimizzare il più possibile le nostre campagne ma lo sappiamo tutti che la settimana prima del black friday ok ci aspettiamo tutti che cpm e cpc vadano alle stelle e noi non possiamo farci niente quindi non abbiamo il controllo da questo punto di vista possiamo solo come dire ottimizzare al massimo le nostre macchine affinché rendano il più possibile sapendo che in quel momento la benzina costa molto scendendo nella fase di monetizzazione invece secondo me il kpi principale qua che dobbiamo detenere è non è una parolaccia ma il costo di acquisizione cliente quindi fatto 100 il valore a cui noi vendiamo un prodotto ok se il nostro costo è 60 sappiamo che abbiamo 40 di margine su cui giocare e anche qui la sto facendo facile e non mi metto a fare tutte le teorie per cui se è un prodotto che è dove di acquisto è facile potrei decidere di fare un'acquisizione in perdita magari le parliamo un'altra volta ma sicuramente questo è un dato che noi dobbiamo detenere e sulla scorta del quale possiamo in sappiamo quanto possiamo decidere quanto spendere per poter acquisire il nostro cliente da ultimo nella fase post acquisto il kpi principale è sicuramente il valore del cliente nel tempo il clv cosiddetto customer lifetime value perché anche qua banalmente mi viene da fare due esempi una cosa è il valore che può avere il mio cliente nel tempo se sono uno che vende cialde per macchine da caffè quindi nella misura in cui inizia a comprare le cialde da me io dovrei preoccuparmi e sperare e fare di tutto affinché questo cliente fino a quando muore gli auguriamo 350 anni di vita continui a comprare periodicamente sempre le cialde da me una volta a settimana una volta al mese ok viceversa se sono un agente immobiliare e vendo case diciamo che è un po più difficile pensare che una volta alla settimana l'utente che a cui ho venduto la casa compri che l'altra casa compri l'altra casa compri l'altra casa probabilmente possiamo fare del cross selling sì possiamo fare altre attività quindi sapere conoscere detenere il valore del cliente nel tempo è fondamentale anche qui per fare dei piani marketing per sapere cosa fare da ultimo e poi ho davvero finito abbiamo parlato guardato questa questa immagine dall'alto verso verso il basso ma se io devo darvi un consiglio cioè da dove si implementa una strategia cosa che ancora mi sembra così ovvia eppure la vedo fare così poche volte si implementa dal basso verso l'alto cioè le prime cose che vanno fatte vanno fatte sui clienti nella misura in cui è un'azienda che ha già clienti vuoi perché abbiamo visto prima che la roba più importante da fare analizzare il processo d'acquisto abbiamo detto che per analizzare il processo d'acquisto una delle cose che possiamo fare è chiedere ai clienti vuoi non partire dai clienti vuoi non partire dai dati di vendita secondo le attività che si fanno sui clienti le attività di marketing sono essendo persone che hanno già aperto il portafogli ci hanno già dato la loro fiducia lo sappiamo bene che se a loro richiedi chiediamo di ricomprare da noi nella misura in cui il nostro business ha un senso in questi termini è molto più facile che riacquistino sappiamo che possiamo raggiungerli non necessariamente andando intercettare chissà che pubblico non sappiamo bene dove ma magari semplicemente abbiamo una mail abbiamo un numero di telefono quindi sono attività meno costose che fruttano soldi nel breve quando si va da un cliente si riesce a fare un'attività sui clienti che magari lui non stava facendo il cassetto si muove subito ok quindi anche un atto di ruffianaggine oltre che di intelligenza una cosa del genere anche a breve termine se un cliente che ha un database di clienti un'azienda che seguiamo un database dei clienti e di email che non ha mai utilizzato magari a un e-commerce e capita sappiamo noi sappiamo bene che se solo facciamo partire una mail dicendo vieni sul sito a vedere cosa c'è qualcosa succede qualcosa succede e nel breve con l'operazione non costa niente più ci muoviamo sui clienti più capiamo quali sono i cluster dei nostri clienti e possiamo ragionare un po più di con un po più di logica per andare a capire che tipo di campagna fare d'altronde ragazzi ma il facebook di turno quando fai luca like cosa fa ci fotte i dati per lui c'è il pixel sul sito conosce i nostri clienti si fa i suoi bei cluster e poi va a rivenderli agli altri perché di questo stiamo parlando quindi dico dovremmo essere noi i primi a usare la testa a riguardo a partire dal basso e poi a scalare verso l'alto io sì direi che che mi fermo perché sennò diventa una predica elisa eccomi qui grazie mille ti riattivo anche la web così proviamo a rimetterci un webcam allora ti riattivo adesso dovrebbe esserti arrivata la notifica anche per la webcam vediamo se ti torno a vedere aspetta aspetta che i nostri partecipanti stanno riempiendo di complimenti bravissimo illuminante grande come sempre quindi intanto ti porta un po l'applauso che ti stanno facendo da tutta la nostra da tutta la nostra platea grazie giuro che se si attiva la telecamera la webcam vedrete che sono anche rossa quella dei due schermini sopra quella della webcam e poi l'audio eccoti qua ti vedo perfetto guarda se vuoi cliccare anche su quello per togliere la condivisione dello schermo così ti vediamo bello grande certamente sei stato fantastico ci hai dato un sacco di spunti e stavo pensando quando hai fatto l'esempio delle cialde del caffè che io con quattro cialde al giorno mi sa che ho fatto la fortuna di nespresso è una bella rendita per loro abbiamo tantissime domande ne vediamo alcune assieme allora veramente ti stanno continuando ad arrivare un sacco di complimenti nel frattempo davvero grazie da parte di tutti allora ok la prima domanda che è arrivata è inerente all'intervista ai clienti hai qualche spunto per la tua esperienza su qualcosa che è bene chiedere sulle modalità con cui è bene svolgere queste interviste qualche spunto frutto della tua esperienza che possiamo dare nel senso partirei da qualche esempio concreto è se parliamo ad esempio di un'azienda che se noi vendiamo cialde da caffè è chiaro che le domande che io devo fare non sono esattamente le stesse di uno che vende polizze assicurative anche la modalità probabilmente cambia cioè se io vendo tramite un e-commerce le mie cialde probabilmente in un non dico questionario di soddisfazione del cliente che sono nomi brutti ma se quando chiediamo la recensione del cliente banalmente gli chiediamo come ci ha scoperto e non ci limitiamo a come ci ha scoperto che poi ci risponde internet ok ma diciamo pubblicità su facebook google te l'ha detto la zia ok quindi bisogna un po accendere il cervello in maniera molto pragmatica perché poi questa cosa fa pugni col siccome vogliamo avere un sacco di informazioni gli facciamo un questionario che diventa un f24 no dici li facciamo male di nuovo da solo quindi bisogna trovare il giusto equilibrio tra avere un'informazione sufficientemente dettagliata che ci aiuti ma che non diventi una rottura di scatole per il cliente e quindi il suggerimento che mi viene da dare questo poi ci sono ambiti dove ci sono molte meno occasioni perché un consul un commercialista non ha migliaia di clienti normalmente ok ha una serie di clienti e tendenzialmente sono ripetitivi poi sai anche la statisticamente ne perderà qualcuno ne acquisirà di nuovi lì l'analisi del processo dei clienti io se sono il commercialista lo faccio con una chiacchierata un'occasione quando viene in studio da me e ci vediamo e mentre beviamo il caffè ma tu all'inizio come mai scelta o cosa ti aveva colpito quindi che ripeto non si può applicare questa strategia se vendiamo cialde e facciamo 400 carrelli al giorno ok il commercialista invece che magari segue 50 clienti in totale può darsi un anno di tempo per fare un giro di telefonata e portare a casa queste informazioni non so se sono riuscito a rispondere un utente ci chiede adesso ma se abbiamo un cliente che un po resti a fare le interviste ai propri clienti e magari ecco si può andare ad indicare anche che potrebbe diventare parte del magari se un utente che ha un'azienda diciamo con un'attività fisica magari potrebbe essere introdotta all'interno anche della routine di saluti ad esempio c'è qualche consiglio anche per chi magari è un po titubante su questa attività no allora spesso cioè salvo rari casi di persone illuminate c'è lo scoglio su questa cosa cena c'è un muro io ripeto lo dico io ormai i clienti lo dico io sì lo so i tuoi clienti non risponderanno mai alle domande perché poi non dicono sono io che non voglio farle che sarebbe più umano dicono i miei clienti non risponderò alle domande quindi di solito qua è un po un lavoro di persuasione capire una cosa una cosettina sola indurla è un po una rottura di scatole lo so poi ripeto ci sono casi dove ci sono personaggi illuminati a me è capitato qualche anno fa con un negoziante che lui chiacchierando in realtà lui riceva sempre a fare le domande mentre al cliente faceva provare i vestiti che diceva ma perché sei venuto qua va che beh e quando il cliente usciva infatti lui era un bastardo riceva a farci lasciare i dati la mele eccetera ma lui in realtà aveva un questionario e con le x metteva mi ha detto che mi ha conosciuto quindi ripeto questo è un illuminato e lo so che è raro poi lo so che molti dicono ma no io non ho tempo per fare queste cose è vero anche questo poi ad esempio Marco ci sta dicendo ai miei clienti lo lasciano con incentivo quindi magari a seguito di poi offriamo uno sconto qualcosa sì si possono pensare anche ad attività di questo tipo certamente per facilità anche l'unica raccomandazione perché è vero una bella leva all'incentivo attenzione però che uno non sia affascinato dall'incentivo quindi ti dà qualsiasi risposta pur di avere l'incentivo non vuoi faccio l'avvocato del diavolo eh ragazzi però sì il metodo dell'incentivo siccome ci si fa lasciare l'incentivo lasciamo l'incentivo qualche volta per incentivare le recensioni a maggior ragione vale anche qui bisogna trovare il modo corretto sano intelligente per farlo grazie un'altra domanda questa un po più difficile o meglio immagino che sia una domanda molto vasta però ti chiederei lo stesso di darsi uno spunto molti dei nostri è una domanda che è arrivata da più persone chiedono ma ok io faccio questo tipo di analisi e da cui devo passare a fare un preventivo sulla base dell'analisi che ho fatto cosa può influenzare maggiormente il preventivo che andrò a fare è qualche spunto da darci per il ragionamento che porta dall'analisi poi immagino che per fare un preventivo dipende anche cosa vogliono fare che tempi hanno che quindi sono mille varianti ma uno spunto se ce lo puoi dare lo stesso vi provo vi porto la mia esperienza ragazzi qui non ho la magia probabilmente se vado lungo fermami elisa è un po inquadrare l'argomento allora una cosa è fare l'analisi e già qui si aprirebbe il tema se l'analisi dobbiamo farla gratis o a pagamento se ci metto cinque minuti perché adesso io vi ho dato uno schemino dove vi ho detto un po come dire per capire se il malato è grave o sta bene mettiamo il termometro davvero bene esce 37 e 8 che per un uomo è morto facciamo che è una donna e quindi qualche linea di febbre quindi se uno dice devo provarti la febbre te lo faccio gratis se invece inizia la febbre poi faccia ti ascolto il cuore diventa una visita completa diventa una giornata di lavoro già si apre il tema se questo lavoro vada fatto gratis a pagamento facciamo finta anzi noi tutti vorremmo poterlo fare a pagamento bene quanto costa questo lavoro quanto costa questo lavoro è diverso di a quanto vendo questo lavoro e ripeto qua vi dico il mio pensiero a riguardo la mia filosofia il quanto costa chiaramente tutti noi dovremmo o sappiamo quanto vale per noi una giornata nostra è per dare un'unità di misura un'ora ognuno c'è il suo parametro e quindi se io so che mi aspetto della mia giornata di dover guadagnare almeno per coprire i costi che ne so 500 euro dico numero ok se capisco che per fare quel lavoro là mi servono tre giorni il costo che io ho in testa è 500 1500 euro 500 per tre lo metto da parte che lavoro sto facendo e per chi lo sto facendo allora voi capite che se io questo lavoro qua lo devo fare per il sarto che ho sotto casa mia che fa tre vestiti al mese tanto a lui non gliene frega più di tanto che dico bene per fare l'analisi ok ci vogliono 1500 euro grazie alla quale faremo uscire il progetto poi per implementarlo ci vorranno 3000 euro di qua capite bene che il sarto che magari fattura 20 30 mila euro l'anno che per lui va benissimo ok e guarda e me lo direbbe in veneto probabilmente qua ma mi manda a quel paese ok altra cosa è se tre giorni di lavoro li sto facendo per capire se un'azienda che ne so che fattura due milioni di euro al mese se può arrivare a fatturarne due e mezzo aggiungendolo online sto dicendo una cosa assolutamente a caso allora a quel punto io mi interrogo allo stesso modo ma se è assurdo chiedere 1500 euro al sarto sotto casa è altrettanto assurdo chiedere 1500 euro a un'azienda che è abituata e che ha margini che ha possibilità di e che ha anche un rischio rispetto all'analisi che si va a fare rispetto all'impatto che potremmo portare perché poi le analisi assolutamente assolutamente tant'è che poi dopo potremo parlare dei vari modelli di vendita cosa fai ti fai pagare la consulenza vuoi andare a percentuale un po di un po di fisso un po di percentuale quali sono i rischi a percentuale dove finisce e qua sono diventano tecniche di vendita davvero potremmo fare tre giorni di corso solo su quello grazie grazie mille sì diciamo appunto nella parte di preventivo ci sono così tante varianti che sicuramente va molto contestualizzato il tipo di di realtà aziendale che abbiamo di fronte capire un po poi il nostro lavoro è detto benissimo il nostro costo orario e poi il costo al quale possiamo vendere anche l'attività che andremo a fare come mindset proprio cioè tengo distinte le due cose non le confondo mai ci ho messo anni è che ogni tanto ancora tendono a riavvicinarsi ma la roba è il costo di una roba è quanto vale il mio lavoro in quel contesto lì certo la domanda che ti faccio adesso invece molto più un caso un caso che ci chiede un utente dice io abbiamo noi abbiamo un cliente che vende scarpe da ballo tu non so se sei appassionato di ballo io ballavo il tango argentino adesso ormai sono appassionato di balla essendo veneto vale ci sta ci sta ok ci chiede il nostro cliente fa è un produttore di scarpe da ballo non ha un negozio fisico perché vende b2b ad altri negozi no e dice che come tipo di business il tipo di utente che compra le scarpe da ballo quindi ballerini che sono molto delicati sulle proprie scarpe giustamente perché devono insomma ballare scatenarsi in pista dice quasi tutti gli utenti comprano e gli utenti di clienti comprano in negozio quindi nei negozi dei suoi vari della distribuzione dice il il nostro cliente vorrebbe fare un e commerce anche se non ha un negozio fisico però vorrebbe provare a vendere anche tramite commerce la partecipante del webinar mi dice noi glielo abbiamo sconsigliato dicendogli che potrebbe essere insomma complesso come percorso però l'utente lo vuole fare quindi che consiglia e in questo caso rispetto a chi ha un e vuole approvare un business online non ha però un negozio fisico e si trova di fronte a un settore in cui probabilmente la parte fisica quindi poter provare le scarpe magari potrebbe avere un impatto rilevante è qualche suggerimento poi anche qualche spunto a riguardo allora non sono assolutamente esperto a riguardo provo a fare delle ipotesi sulla scorta faccio delle ipotesi e provo a dire la mia 1 non entro nel merito se aprendo loro un loro e commerce i distributori si arrabbiano dopo per scontato che trovino l'equilibrio non so in che modo è sempre una cosa difficile non entro nel merito di questo non entro nel merito del fatto che cambi la loro distribuzione quindi la logistica b2c sia completamente diversa dalla b2b anche lì dopo per scontato che siano bravissimi provo a fare un ragionamento legato a mi conviene da un punto di vista marketing o di vendita e andare a vendere online direttamente b2c allora se nel caso di scarpe per ballerini io non so se il brand fidelizza cioè se essendo legato a una passione quindi la componente emotiva qua sicuramente altissima e quindi se io mi trovo bene con la scarpa da ballo balla veloce non so come si chiami e quindi se c'è anche una sorta di fidelizzazione ricca di componente emotiva probabilmente questo potrebbe essere un buon motivo per andare a prendere il cliente perché vuol dire che nella misura in cui quello lì continua a ballare continuerà a comprare sempre le mie scarpe e quindi più io riesco a portarlo direttamente meno corrono il rischio che vada nei negozi dove magari vede anche la concorrenza quindi questo potrebbe essere un vantaggio se è vero il presupposto che ho detto io e io non so se il ballerino la marca della scarpa diventa importante se la loro scarpa è un brand importante per i ballerini e che altro una cosa io ad esempio personalmente proprio in riferimento alle scarpe probabilmente prima di zaland non avrei mai immaginato di comprare le scarpe online quindi è vero anche che anche il settore è cambiato sicuramente le scarpe da ballo sono qualcosa di più specifico rispetto alla scarpe tutti i giorni ma è anche vero che ad esempio zaland ci ha fatto vedere come se prima era quasi impensabile comprare con facilità a calzatura online adesso basta un click proprio anche per la politica del reso facile quindi con zaland arriva al pacco urla di piacere come dice lo slogan e poi in caso non ti piace rimpacchetti e mandi e ad esempio questo sarebbe un elemento da valutare se all'interno poi di come si va a costruire il business come si va a costruire le commerce e il processo poi di vendita potrebbe essere un elemento quello di facilitare la parte di reso per incentivare i clienti da acquistare e dire guarda compra online magari adesso una delle delle tematiche su cui ho visto anche proprio zalando sperimentare acquista top prodotti non paghi subito quando ti arrivano a casa tieni e paghi solo quello che tieni quindi anche queste modalità di pagamento particolari poi probabilmente non possiamo paragonare una realtà grande come zalando magari al singolo produttore però comunque ci sono degli spunti che magari potremmo anche portare all'interno di e commerce più piccoli magari appunto con le dinamiche i tempi magari non con un reso di 100 giorni che immagino diventa complesso ma mantenendo dei resi con il minimo previsto per legge magari potrebbe essere una possibilità quindi non ti nascondo elisa mi permetto di aggiungere un pezzettino se mai decidessero di fare una cosa del genere che ha un costo perché qua non è solo april e commerce come noi ben sappiamo è april e commerce se conosco il processo d'acquisto dei miei clienti e qua anch'io ipotizzo ma non è che uno dei modi per andare intercettare i tuoi clienti innanzitutto sia andare presso le scuole di ballo dove i tuoi clienti vanno che ne so avere dei testimonial o degli influencer nel senso vero del termine banalmente i maestri delle scuole di ballo sto dicendo delle cose ripeto non conosco il settore ci sono delle esibizioni dove normalmente i ballerini vanno fanno i saggi fanno non è che vale la pena essere presenti liquidi bisogna mettere in piedi un processo che è un po a 360 gradi si dice da dove giustamente si parla di omnicanalità e torno a dire non sto entrando nel merito della felicità che probabilmente potrebbero o proverebbero i rivenditori quando scoprono che tu vendi direttamente e questa è un'altra cosa che è inevitabile dove tu puoi a tenere i prezzi più alti quindi diciamo che vendi sicuramente meno ok b fai dumping sui tuoi rivenditori ma tu hai già in mente che sopporterai questa cosa li perderai ma ti stai organizzando in altro modo sì senz'altro ti faccio l'ultima domanda l'ultima domanda che ti vorrei fare e però so che non risponderemo a molti perché davvero ti sono arrivate tantissime domande io invito chi ha fatto una domanda qui non rispondiamo durante questo webinar a contattare manuel manuel prima della diretta mi ha detto ti prego elisa di che se hanno domande e casi specifici specifici mi contattino quindi manuel ci ha dato la sua disponibilità e se poi le domande a chi non abbiamo risposto le volete porre direttamente a lui sono sicura che veramente vi potrà dare anche degli spunti ulteriori quindi contattatelo da facebook magari offritegli un prosecchino e sono sicura che vi darà degli spunti rilazionati nel tempo i prosecchini giusto adesso la domanda è questa e si dice hai dei suggerimenti per analizzare la credibilità in internet di un'azienda ad esempio l'utente dice google alert come base oppure utilizzi hai altri suggerimenti da dare per l'analisi un po del sentiment immagino dell'azienda io sono proprio un vecchio a riguardo quindi davvero vado google lo cerco certo che in alcuni ambiti dove c'è continuità uso alert o uso altri strumenti solitamente gli strumenti sono l'estegista per me automatizzo ok o chi ha ancora la forza e il coraggio di starmi vicino e mi sopporta però il qualitativo io davvero lo faccio leggendo interpretando non perché dove possono fare le macchine lasciamo fare le macchine ragazzi dove ancora ce la giochiamo sulla parte della strategia che ormai è sempre più relegata alla creatività secondo me un po anche alla pazzia all'imprevisto bisogna mettere in crisi gli algoritmi quindi io l'analisi del sentiment cosiddetto questa brutta parola a manina io a manina proprio anche su quella che è proprio io definivo anche un'analisi di listening rispetto magari anche quello che è la presenza di un brand o di un'azienda su facebook ma anche proprio con la barra di ricerca andare a cercare cercare i commenti cercare cosa si dice online quindi questo livello qua però sicuramente sì ci sono anche dei tool che automatizzano in parte alcune cose ma a meno che non abbiamo una realtà estremamente grande probabilmente farlo a mano anche se è una parte impegnativa quindi questo ad esempio anche un lavoro all'interno del lavoro che possiamo poi vendere anche come analisi a un'azienda sicuramente farla a mano ci permette di avere più dati e la sensibilità soprattutto di valutare i commenti e le opinioni di un'azienda nei confronti di appunto un prodotto servizio con maggiore sensibilità perché se l'analisi è fatta da una persona sicuramente si può accorgere anche delle sfumature che si nascondono magari dietro a un messaggio che viene digitato in una pagina di un utente quindi sì sì ok io direi che ci prendiamo qui max e col pensiero chiamiamo anche il tuo max in quarantena in ufficio e direi che facciamo un saluto a tutti i nostri partecipanti davvero grazie manuel ci hai dato un sacco di spunti e ti facciamo davvero un altro un altro applauso qui assieme ai nostri partecipanti sono tutti contentissimi che dire a tutti voi intanto un augurio di buon pomeriggio vi invito di nuovo a mercoledì prossimo ore 15 a non mancare al prossimo webinar prossimo webinar lo andiamo a fare tramite diciamo lo facciamo su seo zoom quindi l'argomento sarà seo zoom mi dicono ma dove contattiamo manuelo potete fare tramite facebook cercate manuelfe e sono sicura che la dovete trovare cercatemi sul gruppo di seo zoom arrivo arrivo infatti e vi chiedo anche questo se questo se questo webinar vi è piaciuto tramite la pagina facebook di seo zoom tramite il gruppo scriveteci un commentino scriveteci la vostra opinione davvero è molto importante per noi anche per per avere di vostri feedback se avete un'idea su un prossimo webinar che vi piacerebbe scrivetemi a elisa chiocciola seo zoom punto it io raccolgo tutti i vostri spunti e cerco di rendere questo percorso sempre più bello sempre più completo grazie anche a professionisti fantastici come manuel che sono online con noi ogni settimana quindi di nuovo grazie a tutti e vi auguro un buon pomeriggio ciao manuel grazie a te elisa di nuovo grazie a tutti e un saluto agli amici di seo zoom alla prossima grazie a tutti Grazie a tutti.